In base al secondo capo d'accusa che ha riportato in tribunale l'oppositore russo Alexei Navalny, la condanna è comminata, è stata una multa dell'equivalente di 9.500 euro per aver diffamato un veterano della seconda guerra mondiale. Lo riportano i media russi. Per la corte Navalny ha umiliato e insultato tutti quei veterani che quell'uomo rappresentava. Il processo per diffamazione riguarda un 94enne che compare in un video promosso dal Cremlino sulla riforma costituzionale che tra le altre cose ha cancellato per Putin il limite di due mandati presidenziali consecutivi. In un tweet Navalny aveva definito traditori coloro che apparivano nel filmato ed è stato querelato per diffamazione. Nel suo intervento in tribunale Navalny ha citato la Bibbia dicendo beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati e si è detto contento di essere comunque tornato in Russia. In una dichiarazione la procuratrice del Tribunale di Mosca, Ekaterina Frolova, ha ribadito che anche nel 2016 Navalny aveva violato le condizioni della sospensione della pena, sicuramente più di dieci volte. Anche allora, riferendosi alle violazioni del 2016, queste hanno costituito il motivo per l'annullamento della pena sospesa e l'esecuzione della pena, cioè la reclusione. L'avvocato difensore ha confermato che farà ricorso in Cassazione contro la sentenza. In successione i giornalisti accorsi al di fuori della corte hanno chiesto in quale prigione l'imputato verrà detenuto. L'avvocato ha risposto che l'autorità può condurlo dove vuole.